Caro bollette, continuano le lamentele di piccoli e grandi imprenditori elbani. Dopo la denuncia di Mauro Solari, proprietario dell'hotel Villa Ombrosa a Portoferraio, Elba Press ha raccolto alcune testimonianze, come cercano di reagire i commercianti, i ristoratori e gli albergatori elbani a rincari sui consumi di energia elettrica e gas. Troppe le spese legate agli aumenti dal 60 al 300% in bolletta, mentre con l'arrivo della stagione invernale i registratori di cassa diventano sempre più vuoti. Qualcuno espone la bolletta in vetrina, altri hanno già chiuso e altri ancora si apprestano a farlo. Far quadrare i conti è diventato un problema. Ecco un'altra testimonianza raccolta in questi giorni a parlare il titolare di una nota pasticceria di Portoferraio e il titolare di un ristorante del centro storico. La situazione è molto complicata, non vorrei dire tragica ma ci siamo molto vicini. Come affrontarlo non ho idea. Ho avuto un aumento di più del 300% sulla fornitura elettrica, sommando poi gli aumenti anche delle materie prime, tutto il problema è bello grosso. So di non averlo solo io questo problema ed è una spada di Damocle che hai sopra la testa ogni mese e quindi non sai cosa aspettarti il mese prossimo e non sai se ce la fai ad affrontarla una situazione così. Soluzioni io non ne ho e un'altra cosa veramente antipatica secondo me è che questa situazione, questo stato d'animo ti porta anche a non avere neanche voglia di studiare, di inventarti un qualcosa perché comunque se devi pensare di far sacrifici e tutto per dover pagare la bolletta della luce è un po' triste la situazione. Quanto era la bolletta che abbiamo visto appesa al bancone all'interno? Si parla del mese di agosto e la bolletta è di 6.300-6.400 euro alla differenza rispetto all'anno scorso che comunque era già aumentata la corrente ma l'anno scorso era su 2.000 euro. che da 3.000 euro a pagare 10.500 euro è assurdo e il 330% in più. Questi andrebbero denunciati chi gliel'ha permesso e chi lo ha fatto. Non so come dire altro. La situazione quindi ora si fa sempre più complicata perché poi arriveranno anche le altre. Certo perché non è che prima pagavo 12 centesimi bloccato fino a giugno come mi è stato detto però mi dicevano che comunque oscillava di qualcosa ma no da 12 centesimi a 60 centesimi vuol dire che poi l'inverno novembre, dicembre, gennaio e febbraio che sono altri incassi non è che sono incassi di estate che si possono sostenere queste spese. Parliamoci chiaro, aumenti un po' di lavoro, fai un po' di sacrifici più e riesci a pagare anche qualcosa in più di corrente. Ma d'inverno siamo costretti a chiudere cose che probabilmente potevamo anche mantenere un ritmo lavorativo invernale e dare un servizio ai cittadini e ai bani. Io sono, tra dieci giorni chiuderò anch'io come hanno già chiuso diversi ristoranti.